Domani sera al Pala Corsiga c'è un appuntamento importante per raccogliere fondi da destinare proprio a Salvatore Spene. Sì, domani sera ci sarà un'altra serata a favore di Salvatore, questo grazie agli artisti uniti che si sono di nuovo prodigati nel darci una mano come sempre. Grazie a questi continui aiuti da parte di tutti voi riusciamo a continuare questi cicli di cure che purtroppo sono abbastanza costose e quindi richiedono continuamente l'aiuto da parte di tutti perché come ben immaginate da soli non ce la facciamo. Intanto come sta Salvatore? Salvatore sta benissimo, la terapia sta procedendo bene, lui risponde abbastanza bene e quindi possiamo continuare ancora i cicli e sperare nella guarigione totale. Come sarà sviluppata domani la serata? Domani sarà organizzata più o meno come è andata nelle altre occasioni, avremo delle band, degli artisti, cantanti, ballerini e attori che si esibiranno gratuitamente per Salvatore. Poi c'è una chicca particolare perché avremo due ospiti di eccezione direttamente alla trasmissione insieme, avremo il cabarettista Sasa Salvaggio e il presentatore Cristiano Di Stefano. Anche loro totalmente in maniera gratuita hanno sposato la causa di Salvatore e saranno presenti per arricchire il perter di ospiti di domani al Palacossiga. E come verrà la raccolta fondi? La raccolta fondi sarà semplicemente al buon cuore di chi verrà. L'ingresso è libero quindi chi vuole può venire tranquillamente, non c'è biglietto a acquistare, non c'è nulla da acquistare, però ovviamente chi vuole potrà lasciare lì in un banchetto una donazione per Salvatore. Lo scopo è questo, cercare di raccogliere quanti più fondi per consentire a Salvatore di continuare questa battaglia che sta conducendo con grande forza e con grande determinazione. I risultati ci sono, il primo ciclo è andato bene, cerchiamo adesso di avere i fondi per garantirgli anche il secondo ciclo.